Ciao ragazzi, un salto a tutti da parte mia, oggi sono in compagnia di Dyson, parliamo di B7 Animal Extra abbiamo di aspirapolvere a batteria con sistema ciclonico, due tire radial e abbiamo ben 15 cicloni montati su un motore leggermente migliorato ecco questo lo faccio vedere, quindi potremo utilizzare sia a terra che anche sotto al tetto le spazzole ed è una cosa importante perché riusciamo a togliere anche la polvere dagli angoli del nostro tetto di casa andiamo al mio canale youtube hdvitalia e cosa gradita perché il mio canale è un canale social non monetizzato uno dei pochi canali non monetizzati perché faccio questo per passione, quindi faccio il docker, lo scrittore mi piace analizzare i prodotti e quindi portarli all'attenzione del pubblico quindi io vi voglio salutare con Dyson, ho terminato, se avete domande continuate a scrivermi vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione, ciao ragazzi